Certo di Lui non si potrà mai dire che lo studio e la scienza abbiano inaridito la sua persona e il suo amore nei confronti di Dio e del prossimo, ma al contrario, che la scienza, la saggezza e la preghiera hanno dilatato il suo cuore e il suo spirito. Ringraziamo Dio per il dono che ha fatto alla Chiesa e al mondo con l'esistenza e il pontificato di Papa Benedetto. Le parole di Francesco arrivano dopo lo svelamento nella sede della Pontificia Accademia delle Scienze di un busto dedicato al Pontificio Merito che San Giovanni Paolo II nominò membro della stessa Accademia. Un grande Papa, giunto per la forza della sua intelligenza, per il contributo alla teologia e per l'amore verso la Chiesa. Rivolgendosi poi ai membri della Pontificia Accademia al termine della loro sessione plenaria, Papa Francesco li ha incoraggiati a migliorare le condizioni di vita delle persone, specialmente i più poveri. Ha messo in guardia dal vedere Dio come un mago, ma pensare a Lui come il Creatore, capace di dare autonomia agli esseri viventi perché arrivino alla pienezza. All'uomo e della novità ha dato la libertà rendendolo responsabile del creato. Il Big Bang, afferma il Papa, non contraddice l'intervento creatore divino, ma lo esige. L'evoluzione nella natura presuppone la creazione. Pertanto lo scienziato cristiano deve interrogarsi sull'avvenire dell'umanità e della Terra e allo stesso tempo concorrere ad eliminare i rischi dell'ambiente sia naturale che umano. A Lui è chiesta fiducia e speranza in Dio perché l'uomo partecipa della potenza del Creatore, ma attenzione perché quando la libertà dell'uomo diventa autonomia si distrugge il creato e questo è un peccato contro Dio. Grazie. Grazie.